GIOCHIAMO AD ACCHIAPPARELLO CON GLI SCORPIONI Il giorno dopo c'era molta agitazione immensa. A quanto pareva, intorno alle tre del mattino, era stato localizzato un drago etiope ai margini del campo. Io ero talmente sfinito che il chiasso non mi aveva svegliato. I confini magici lo avevano tenuto alla larga, ma il mostro si aggirava per le colline, alla ricerca di eventuali punti deboli nelle nostre difese, e non era sembrato ansioso di andarsene finché lì, Fletcher della casa di Apollo, non si era lanciato al suo inseguimento con un paio dei suoi fratelli. Solo dopo qualche dozzina di frecce incastratesi fra gli interstizi della corazza, aveva ricepito il messaggio e si era ritirato. È ancora là fuori, ci avvertì lì durante gli annunci. Venti frecce sulla groppa e siamo riusciti solo a farlo arrabbiare. «Quella bestiaccia era lunga più di dieci metri ed era tutta verde!» Gli occhi rabbrividì. «Sei stato bravo lì!» Chirone gli diede delle pacche su una spalla. «Restiamo tutti allerta, ma calmi!» «Non è la prima volta!» «Signor sì!» rispose Quintus, seduto al tavolo del direttore. «E succederà di nuovo, sempre più spesso!» I ragazzi del campo murmurarono. Erano tutti a conoscenza delle voci che circolavano. Liuk e il suo esercito di mostri stavano progettando un'invasione del campo. La maggior parte di noi se lo aspettava entro l'estate, ma nessuno sapeva né come né quando. Il nostro numero esiguo non ci aiutava molto. Eravamo solo un'ottantina. Tre anni prima, quando avevo cominciato, eravamo più di cento. Alcuni ragazzi erano morti, altri si erano uniti a Liuk, altri ancora erano semplicemente scomparsi. «Un'ottima ragione per proseguire con i nostri giochi di guerra», continuò Quintus, con uno scintillio negli occhi. «Vedremo come ve la caverete questa sera». «Certo», disse Chirone, «ma basta, annunci. Ringraziamo gli dèi per il pasto e mangiamo». Alzò il calice. «Agli dèi!» Sollevamo tutti il calice e ripetemmo l'invocazione. Io e Tyson portammo i nostri piatti al bracciere di bronzo e rovesciamo una porzione di cibo nelle fiamme. Sperai che agli dèi piacessero i toast con l'uva passa e i cereali alla frutta. «Oseidone!» esclamai. Poi sussurrai. «Aiutami con Nico! E con Liuk! E con il problema di Grover!» Le preoccupazioni erano talmente tante che mi sarei potuto fermare lì tutta la mattina. Ma tornai al mio tavolo. Quando si iniziò a mangiare, Chirone e Grover vennero a trovarci. Grover aveva gli occhi appannati e la maglietta al rovescio. Fece scivolare il piatto sul tavolo e si lasciò cadere accanto a me. Tyson cominciò ad agitarsi. «Io vado a pulire i pesci pony!» Si allontanò con il suo passo pesante, lasciando la colazione a metà. Chirone cercò di sorridere. Probabilmente voleva sembrare rassicurante, ma si stagliava sopra di me, gettando la sua ombra di centauro sul tavolo. «Allora, Percy, come hai dormito?» «Ehm, bene. Chissà perché me lo aveva chiesto. Possibile che sapesse qualcosa dello strano messaggio che avevo ricevuto.» «Ho portato Grover», aggiunse. «Ho pensato che voi due aveste... delle faccende da discutere. Ora, se volete scusarmi, devo mandare qualche messaggio iride. Ci vediamo più tardi.» Lanciò a Grover un'occhiata significativa, quindi trottò via dal padiglione. «Di cosa stava parlando?» domandai a Grover. Lui masticò le sue uova. Si capiva che era distratto, perché staccò con un morso anche i ribbi della forchetta, e mandò giù pure quelli. «Vuole che tu mi convinca», borbottò. «Qualcun altro si infilò sulla panca accanto a me. Annabeth.» «Te lo spiego io di che si tratta», intervenne. «Il labirinto.» Era difficile concentrarsi su quello che stava dicendo, perché gli altri ci lanciavano delle occhiatine fugaci e bisbigliavano. Annabeth si era seduta accanto a me. Proprio accanto a me. «Tu non dovresti essere qui», le feci notare. «Dobbiamo parlare», insistette lei. «Ma le regole...» Sapevamo entrambi che ai ragazzi del campo era proibito cambiare tavolo. Per i satiri era diverso. Non erano semidei. Ma in mezzo sangue dovevano sedersi al tavolo della propria casa. Non sapevo nemmeno quale punizione fosse prevista per chi disobbediva. Non l'avevo mai visto succedere. Se il signor D fosse stato lì, probabilmente avrebbe strangolato Annabeth con dei tralci di vite magici o roba del genere. Però il signor D non c'era. Chirone se n'era già andato. Quintus ci lanciò un'occhiata e alzò un sopracciglio, ma non disse nulla. «Senti», continuò Annabeth, «grovere nei guai. Abbiamo un solo modo per capire come aiutarlo. È il labirinto. Ecco su cosa abbiamo investigato io e Clarisse. Mi agitai un po' sulla panca, sforzandomi di pensare lucidamente. Vuoi dire quello in cui ai vecchi tempi tenevano il Minotauro? Esatto», confermò lei. «E così non si trova più sotto il Palazzo Reale di Creta», intuì. «Il labirinto è sotto un altro edificio qui in America». «Visto? Ci avevo messo solo qualche anno per capire come stavano le cose. Sapevo che i luoghi importanti si spostavano al seguito della civiltà occidentale, come il Monte Olimpo sopra l'Empire State Building e l'ingresso degli inferi a Los Angeles. «Ero molto fiero di me». Annabeth alzò gli occhi al cielo. «Sotto un edificio. Persi, ti prego, il labirinto è enorme. Non entrerebbe nemmeno sotto un'intera città. Figuriamoci sotto un solo edificio». Ripensai al mio sogno di Nico sulle rive dell'Ostige. «Allora è una parte degli inferi?» «No». Annabeth aggrottò la fronte. «Beh, potrebbero esserci dei passaggi che collegano il labirinto agli inferi. Non ne sono sicura. Ma gli inferi si trovano molto, molto più in profondità. Il labirinto, invece, è proprio al di sotto della superficie del mondo mortale, un po' come una seconda pelle. Continua a crescere da migliaia di anni, avanzando sotto le città occidentali, collegando ogni cosa sottoterra. Si può arrivare ovunque, attraverso il labirinto. «Sempre che tu non ti perda», mormorò Grover. «E non muoia di una morte orribile». «Grover, deve esserci un modo», esclamò Annabeth. Ebbi la sensazione che avessero già avuto quella conversazione. «Clarisse è sopravvissuta!» «Per miracolo!» protestò Grover. «E quell'altro è impazzito, ma non è morto». «Oh, che gioia!» Il labbro di Grover tremò. «Ora mi sento molto meglio!» «Ehi!» «Spottai!» «Frenate!» «Cos'è questa storia di Clarisse e di un ragazzo impazzito?» Annabeth lanciò un'occhiata al tavolo di Ares. Clarisse ci guardava come se sapesse di cosa stessimo parlando, ma poi abbassò gli occhi e li tenne fissi sul piatto. «L'anno scorso», spiegò Annabeth sottovoce, «Clarisse è andata in missione per conto di Chirone. «Me lo ricordo», dissi. «Era una missione segreta». Annabeth annuì. «Anche se era così seria, ero contento che non fosse più arrabbiata con me e mi piaceva che avesse infranto le regole per sedersi accanto a me». «Era segreta», continuò, «perché aveva trovato Chris Rodriguez. Quello della casa di Hermes? Me lo ricordavo. Due anni prima lo avevamo spiato a bordo della nave di Luke, la principessa Andromeda. Chris era uno dei mezzosangue che avevano abbandonato il campo per unirsi all'esercito titano». «Già», rispose Annabeth, «l'estate scorsa è comparso a Phoenix, in Arizona, vicino alla casa della mamma di Clarisse. Così, all'improvviso». «Come così all'improvviso?» «Vagava nel deserto sotto non so quanti gradi, con indosso l'armatura greca e farneticava qualcosa a proposito di un filo». «Un filo», ripetei. Era completamente impazzito. Clarisse lo ha portato a casa di sua madre per evitare che i mortali lo chiudessero in manicomio. Ha cercato di curarlo. Chiron è andato a interrogarlo, ma non è servito a molto. L'unica cosa che sono riusciti a cavargli di bocca è questa. Gli uomini di Luke stavano esplorando il labirinto. Rabbrividi, pur non sapendo di preciso perché. Povero Chris, non era un cattivo ragazzo. Cosa l'aveva fatto impazzire? Guardai Grover, che stava masticando il resto della sua forchetta. «Ok», dissi. «Perché stavano esplorando il labirinto?» «Non lo sapevamo con certezza», rispose Annabeth. «Ecco perché Clarisse è partita per una spedizione esplorativa. Chiron ha tenuto le cose sotto silenzio perché non voleva che qualcuno si lasciasse prendere dal panico. Ha coinvolto me perché... Beh, il labirinto è sempre stato uno dei miei argomenti preferiti. L'architettura che ci vuole per... assunse un'espressione un po' sognante. Chi l'ha costruito, Dedaloo, era un genio. Ma il punto è che gli ingressi del labirinto si trovano dappertutto. Se Luke riuscisse a scoprire come orientarsi al suo interno, potrebbe spostare il suo esercito a una velocità incredibile. Solo che non è semplice perché è un labirinto, giusto? «Pieno di trappole orribili», concordò Grover. «Vicoli ciechi», «Illusioni», «Mostri psicopatici» e «Ammazzacapre». «Non se possiedi il filo di Arianna», precisò Annabeth. In epoca antica, il filo di Arianna ha guidato Teseo fuori dal labirinto. Era una specie di strumento di navigazione inventato da Dedalo. E Chris Rodriguez parlava di un filo nelle sue farneticazioni. «E così Luke sta cercando di trovare il filo di Arianna», conclusi. «Ma perché?» «Qual è il suo piano di preciso?» Annabeth scosse la testa. «Non lo so. Prima pensavo che volesse invadere il campo attraverso il labirinto, ma non ha senso. Gli ingressi più vicini individuati da Clarisse sono a Manhattan e non aiuterebbero Luke a passare i confini magici del campo. Clarisse si è addentrata un po' nel tunnel, ma è stato molto pericoloso. Ha rischiato la pelle diverse volte. Io ho cercato tutto quello che ho potuto su Dedalo. Però temo che anche questo non sia servito a molto. Non capisco esattamente cosa stia progettando Luke, ma di una cosa sono sicura. Il labirinto potrebbe essere la soluzione del problema di Grover. Strizzai gli occhi. Pensi che Pan sia sottoterra? Questo spiegherebbe perché è irrintracciabile. Grover rabbrividì. I satiri detestano andare sottoterra. Nessun cercatore proverebbe mai a esplorare quel posto. Non ci sono fiori, non c'è la luce del sole, non ci sono bar. Ma, aggiunse Annabeth, il labirinto può condurti quasi ovunque. Ti legge nel pensiero. È stato progettato per ingannare le persone, per imbrogliarle e ucciderle. Però, se riesci a farlo lavorare a tuo favore, potrebbe condurti dal dio delle selve, conclusi io. Non posso. Grover si mise una mano sullo stomaco. Solo a pensarci, mi viene voglia di vomitare le posate. Grover, potrebbe essere la tua ultima possibilità, gli ricordò Annabeth. Il consiglio fa sul serio. Una settimana. O ti ritrovi a un corso di tip-tap. Al tavolo del direttore, Quintus si schiarì la gola. Ebbe l'impressione che non volesse fare una scenata. Ma Annabeth stava davvero esagerando a starsene così a lungo, seduta al mio tavolo. Ne riparliamo dopo? Annabeth mi strinse il braccio un po' troppo forte. Convincilo tu, ok? Tornò al tavolo di Atena, ignorando lo sguardo di tutti. Grover seppellì la faccia fra le mani. Non posso, Percy. La mia licenza di cercatore. Pan! Perderò tutto. Dovrò aprire un teatrino di burattini. Non dirlo nemmeno. Troveremo una soluzione. Mi guardò con gli occhi pieni di lacrime. Percy, sei il mio migliore amico. Tu hai visto come divento sottoterra. Nella grotta di quel ciclope. Pensi davvero che potrei... Gli mancò la voce. Ricordai il mare dei mostri, quando era rimasto rinchiuso nella grotta di Purifemo. Non gli erano mai piaciuti i luoghi sotterrani, ma adesso li odiava con tutto il cuore. Anche i ciclopi gli davano i brividi. Perfino Tyson. Cercava di nasconderlo, ma ognuno di noi riusciva a leggere le emozioni dell'altro per via del legame empatico che Grover aveva creato. Sapevo come si sentiva. Il mio campione lo terrorizzava. Devo andare, disse affranto. Juniper mi sta aspettando. Per fortuna che ha un debole pericodardi. Quando se ne fu andato, lanciai un'occhiata a Quintus. Lui annui serio, come se condividessimo non so quale oscuro segreto. Poi si rimise a tagliare la sua salsiccia con un pugnale. Nel pomeriggio, scesi alle stalle dei Pegasi a salutare il mio amico Black Jack. Ehi, capo! Saltellava nel suo box le ali nere che schiaffeggiavano l'aria. Mi hai portato qualche zolletta di zucchero? Lo sai che non ti fanno bene, Black Jack? Già. Allora, me le hai portate? Sorrisi e gliene offrì una manciata. Io e Black Jack avevamo una lunga storia in comune. Diciamo solo che io avevo contribuito a salvarlo dalla nave demoniaca di Luke qualche anno prima ed allora lui ci teneva a ricompensarmi con dei favori. Allora, abbiamo qualche impresa in arrivo? Mi chiese. Sono pronto al decollo, capo! Gli accarezzai il muso. Non ne sono sicuro, amico. Tutti continuano a parlare di labirinti sotterrani. Black Jack nitri, nervoso. No, nessuna impresa per questo cavallo. Non sarai tanto pazzo da ficcarti in un labirinto, eh, capo? Finirai in una fabbrica di Coca-Cola. Forse hai ragione, Black Jack. Vedremo. Black Jack inghiottì le sue zollette. Scosse la criniera inebriato. Cavolo! Buone! Beh, capo, se ti ripigli e vuoi farti un volo, fammi un fischio. Il vecchio Black Jack e i suoi compagni metteranno chiunque sotto gli zoccoli per te! Gli dissi che l'avrei tenuto a mente. Poi arrivò un gruppetto di ragazzi più piccoli per la lezione di volo e decisi che era ora di andarmene. Avevo il brutto presentimento che non avrei rivisto Black Jack per parecchio tempo. Quella sera, dopo cena, Quintus ci fece indossare l'armatura da combattimento come per prepararci per la caccia alla bandiera. Ma l'umore generale era molto più nero. Durante il giorno, non si sapeva quando, le casse erano scomparse dall'arena e avevo la sensazione che il loro contenuto fosse stato liberato nel bosco. Qualunque cosa fosse. Bene, annunciò Quintus, alzandosi da tavola. Venite qui intorno a me! Era vestito di bronzo e pelle nera. Alla luce delle torce, i capelli grigi lo rendevano simile a un fantasma. La signora O'Leiri gli saltellava allegramente attorno, in cerca di avanzi della cena. Sarete divisi in coppie, annunciò Quintus. Quando tutti cominciarono a parlare, cercando di afferrare i propri amici, lui gridò che sono già state decise. No! Fu il lamento generale. Lo scopo della gara è semplice. Recuperare gli allori senza morire. La corona è chiusa in un sacchetto di seta, legato sulla schiena di uno dei mostri. Ci sono sei mostri in totale. Tutti hanno un sacchetto di seta, ma soltanto in uno c'è la corona d'alloro. Voi dovete trovarla prima delle altre squadre. E naturalmente, dovete uccidere il mostro per riuscirci e restare vivi. Tutti cominciarono a mormorare, eccitati. Il compito sembrava piuttosto facile. Ehi, che c'è? Non era la prima volta che uccidevamo dei mostri. Ci addestravamo opposta. Ora annuncerò le coppie. Continuò Quintus. Non voglio sentire discussioni. Non ci saranno né scambi, né lamenti. La signora Oleiri affondò il muso in un vassoio di pizza. Quintus tirò fuori un grosso rotolo di pergamena e cominciò a leggere i nomi. Beckendorf avrebbe fatto coppia con Silenna Boregar, cosa che lo rese piuttosto felice. I fratelli Stoll, Travis e Connor, sarebbero stati insieme. Nessuna novità. Facevano sempre tutto insieme. Clarisse era in coppia con gli Fletcher della casa di Apollo. Il caos e l'ordine. Due tecniche di combattimento opposte e combinate. Un osso duro da sconfiggere. Quintus continuò a snocciolare nomi, finché non disse Percy Jackson e Annabeth Chase. Bene, sorrisi ad Annabeth. Ma è l'armatura storta, fu il suo unico commento, e mi riallacciò le bretelle. Grover Underwood, proseguì Quintus, con Tyson. Grover per poco non saltò fuori dalla sua pelliccia caprina. Cosa? Ma... No, no, gemette Tyson. Deve esserci un errore. Il ragazzo capra... Niente lamentele, ordinò Quintus. Raggiungete il vostro compagno. Avete due minuti per prepararvi. Tyson e Grover mi rivolsero entrambi uno sguardo supplichevole. Io cercai di rispondere loro con un cenno di incoraggiamento, e li invitai a muoversi insieme. Tyson starnutì. Grover si mise a smangiucchiare nervoso la sua mazza di legno. Se la caveranno, fece Annabeth. Vieni, preoccupiamoci di come faremo a restare vivi. Era ancora giorno quando entrammo nel bosco, ma a causa delle ombre degli alberi sembrava mezzanotte. Faceva anche freddo, nonostante fosse estate. Io e Annabeth trovamo le tracce quasi subito. Segni del passaggio di qualcosa munito di zampe. Molte zampe. Cominciammo a seguire quella pista. Saltammo un ruscello e udimmo dei rametti che si spezzavano nelle vicinanze. Ci accucciammo dietro a un masso. Ma erano solo i fratelli Stoll, che avanzavano e inciampavano, imprecando in mezzo al bosco. Saranno anche stati figli del dio dei ladri, ma erano furtivi come una coppia di bufali. Quando si furono allontanati, ci addentrammo ancora di più nella zona occidentale, dove c'erano i mostri più selvatici. Eravamo su una sporgenza affacciata su una piccola palude, quando Annabeth si irrigidì. Qui è dove abbiamo smesso di cercare. Ci misi un secondo per capire a cosa si riferisse. L'inverno prima, mentre cercavamo Nico di Angelo, era stato in quel punto che avevamo perso le speranze di ritrovarlo. Io, Annabeth e Grover, ci eravamo fermati su quella roccia e li avevo convinti a non dire a Chirone la verità, ovvero che Nico è figlio di Ade. All'epoca mi era sembrata la cosa giusta da fare. Volevo proteggere la sua identità. Volevo essere io a trovarlo e a rimediare per quello che era capitato a sua sorella. Erano passati sei mesi ed ero ancora lontanissimo dall'obiettivo. Un pensiero che mi lasciò l'amaro in bocca. Ieri notte l'ho visto, confessai. Annabeth aggrottò le sopracciglia. In che senso? Le raccontai del messaggio iride. Quando ebbe finito, lei aveva lo sguardo fisso nelle ombre del bosco. Sta evocando i morti? Non è una buona cosa. Quel fantasma lo stava consigliando male, replicai. Gli stava suggerendo di vendicarsi. Già, gli spiriti non sono mai dei bravi consiglieri. Covano vecchi rancori e detestano i vivi. Vuole venire a cercarmi, continuai. Lo spirito ha parlato di un labirinto. Lei annui. E con questo abbiamo deciso. Dobbiamo per forza capire questa storia del labirinto. Forse, ha misi un po' a disagio. Ma chi ha mandato il messaggio iride? Se Nico non sapeva che ero lì... Un ramo si spezzò nel bosco. Le foglie secche frusciarono. Qualcosa di grosso si stava muovendo in mezzo agli alberi, proprio oltre le rocce. Questi non sono i fratelli Stoll, bisbigliò Annabeth. Sguainammo le spade. Raggiungemmo il pugno di Zeus, un grosso mucchio di massi al centro del bosco occidentale. Era un punto di riferimento naturale dove i ragazzi del campo si incontravano spesso nelle spedizioni di caccia, ma adesso non c'era nessuno in circolazione. Laggiù, bisbigliò Annabeth. No, aspetta, replicai, dietro di noi. Era strano. Dei rumori sospetti sembravano provenire da direzioni diverse. Stavamo girando attorno ai massi con le spade sguainate. Quando qualcuno alle nostre spalle disse «Ciao!» Ci voltammo di scatto e Juniper, la ninfa degli alberi, strillò «Abbassate le spade!» protestò. «Alle driadi non piacciono le lame affilate, ok?» «Juniper!» esclamò sollevata Annabeth. «Che ci fai qui?» «Ci vivo!» «Abbassai l'arma!» «Nei massi?» «Lei indicò il margine della radura?» «Nel Ginepro, no?» Non facevo una grinza e mi sentii un po' stupido. Vivevo accanto all'edriadi da anni, ma non ci avevo mai parlato sul serio. Sapevo che non potevano allontanarsi troppo dal loro albero, che era la loro fonte di vita, ma non conoscevo molto altro. «Siete molto occupati?» ci chiese. «Beh!» «Risposi!» «Siamo nel mezzo di una partita contro un po' di mostri e stiamo cercando di non morire!» «Non siamo occupati!» mi corresse Annabeth. «Qualcosa non va, Juniper?» Lei tirò su col naso. Si asciugò gli occhi con la manica di seta. «È Grover!» «Sembra così afflitto!» «È un anno che non fa altro che cercare Pan!» «E ogni volta che ritorna va peggio!» «All'inizio ho pensato che...» «Beh, sì...» «Che uscisse con un altro albero!» «No!» la rassicurò Annabeth mentre Juniper iniziava a piangere. «Sono sicura di no!» «Una volta si è preso una cotta per un cespuglio di mirtilli!» continuò la ninfa sconsolata. «Juniper?» replicò Annabeth. «Grover non oserebbe mai guardare un altro albero!» «È solo stressato per la sua licenza di cercatore!» «Ma non può andare sottoterra!» protestò lei. «Non potete permetterglielo!» Annabeth sembrò imbarazzata. «Potrebbe essere l'unico modo per aiutarlo, se solo sapessimo da dove cominciare!» «Ah!» Juniper si asciugò una lacrima verde dalla guancia. «A proposito...» «Ci fu un altro fruscio in mezzo al bosco!» E l'adriade esclamò «Nascondetevi!» Prima che potessi chiederle il perché, sparì in una nuvoletta di vapore verde. Puff! Io e Annabeth ci voltammo. Un insetto ambrato, luccicante, stava sbucando dal bosco. Era lungo più di tre metri e aveva due tenaglie a guzze, una coda corazzata e un pungiglione lungo quanto la mia spada. Uno scorpione! Legato sulla schiena, aveva un sacchetto di seta rosso. «Uno di noi lo prende alle spalle!» propose Annabeth, mentre la creatura ci zampettava incontro. Egli mozza la coda, mentre l'altro lo distrae davanti. «A distrarlo ci penso io!» risposi. «Tu hai il berretto dell'invisibilità!» Lei annui. Avevamo combattuto insieme così tante volte che conoscevamo bene le reciproche mosse. Potevamo farcela senza problemi. Ma quando gli altri due scorpioni sbucarono dal bosco, andò tutto a rotoli. «Tre!» esclamò Annabeth. «Non è possibile!» «Con tutto il bosco a disposizione, metà dei mostri viene proprio da noi!» Io deglutì. Uno, potevamo farcela. Due, con un po' di fortuna. Tre, ne dubitavo. Gli scorpioni avanzarono verso di noi, sferzando le code uncinate come se fossero lì apposta per ucciderci. Io e Annabeth ci ritrovammo con le spalle contro il masso più vicino. «Ci arrampichiamo?» proposi. «Non c'è tempo!» replicò. Aveva ragione. Gli scorpioni ci stavano già circondando. Erano così vicini che riuscivo a vedere la schiuma che avevano alla bocca, pregustando un pasto gustoso a base di mezzo sangue. «Attento!» Annabeth schivò un pungiglione con il piatto della lama. Io tentai un affondo con vortice, ma lo scorpione arretrò fuori dalla mia portata. Iniziamo a spostarci di lato, lungo i massi, e quelle bestiacce ci seguirono. Me ne hai un fendente, ma attaccare era troppo pericoloso. Se miravo al corpo, la coda scattava verso il basso. Se miravo alla coda, le tenaglie cercavano di afferrarmi ai fianchi. Non potevamo fare altro che difenderci, e non avremmo retto a lungo. Feci un altro passo laterale, e a un tratto sentii il vuoto alle mie spalle. C'era una fessura fra due dei massi più grandi, qualcosa a cui ero passato davanti un milione di volte, ma... «Qui dentro!» dissi. Annabeth menò un fendente contro uno scorpione, e poi si voltò a guardarmi come se fossi pazzo. «Lì dentro?» «È troppo stretto!» «Ti copro io, vai!» si chienò dietro di me e cominciò a infilarsi fra i massi. Poi gridò e mi afferrò per le bretelle dell'armatura, e all'improvviso caddi in una voragine che un attimo prima non c'era. Vidi gli scorpioni sopra di noi, il cielo violetto della sera e gli alberi. Poi il varco si chiuse come l'obiettivo di una macchina fotografica, e ci ritrovammo nel buio più totale. Il nostro respiro riecheggiava contro la pietra. L'aria era umida e fredda. «Ero seduto su un pavimento irregolare che sembrava fatto di mattoni. Sollevai vortice, il debole bagliore della lama riusciva a illuminare il volto spaventato di Annabeth e le pareti di pietra ricoperte di muschio che ci circondavano. «Dove siamo?» chiese lei. «Al sicuro dagli scorpioni!» Cercai di sembrare calmo, ma ero terrorizzato. «Era impossibile che la fessura fra i massi si aprisse su una grotta, lo avrei saputo!» Era come se la terra si fosse spalancata e ci avesse inghiottito. Non riuscivo a pensare ad altro che allo squarcio sul pavimento del padiglione, dove erano spariti gli scheletri quell'inverno. Mi chiesi se non ci fosse successa la stessa cosa. Sollevai di nuovo la spada a mo' di torcia. «È una stanza lunga?» mormorai. Annabeth mi afferrò il braccio. «Non è una stanza, è un corridoio!» Aveva ragione lei. Il buio sembrava più vuoto di fronte a noi. C'era una brezza calda, come nelle gallerie della metropolitana, solo che l'aria sembrava più stantia e in qualche modo più pericolosa. Feci per incamminarmi, ma Annabeth mi fermò. «Non ti muovere!» mi avvertì. «Dobbiamo trovare l'uscita!» Adesso sembrava davvero spaventata. «Ok», dissi. «È proprio qua so...» Guardai in su e mi resi conto che non riuscivo a vedere il punto da cui eravamo caduti. Il soffitto era di pietra massiccia. Il corridoio sembrava continuare all'infinito in entrambe le direzioni. La mano di Annabeth scivolò nella mia. In altre circostanze mi sarei sentito in imbarazzo, ma lì, al buio, ero felice di sapere dove fosse. Era praticamente l'unica cosa di cui fossi sicuro. «Due passi indietro», mi ordinò. «Ci muovemmo all'unisono come su un campo minato». «Ok», continuò. «Aiutami a esaminare le pareti». «Perché?» «Il marchio di Dedalo», rispose, come se la cosa avesse senso. «Ah, ok. Che genere di...» esclamò sollevata. Poggiò la mano sul muro e premette contro una minuscola fessura che cominciò a emanare una luce azzurra. Comparve un simbolo. Delta. La lettera Delta in greco antico. Il soffitto si aprì e rivedemmo il cielo notturno e le stelle. Era molto più buio di quanto avrebbe dovuto essere. Alcuni appigli di metallo comparvero sulla parete, diretti verso l'alto, e udì delle persone che gridavano i nostri nomi. «Persi! Annabeth!» La voce di Tyson era la più forte di tutte, ma non era la sola. Guardai Annabeth, nervoso. Poi cominciamo ad arrampicarci. Avanzammo fra le rocce e ci imbattemmo in Clarisse e in un gruppetto di altri ragazzi con le torce. «Dove siete stati?» ci aggredì lei. «Vi cerchiamo da un'eternità!» «Ma se siamo stati via solo qualche minuto?» protestai. Chirone arrivò al trotto, seguito da Tyson e Grover. «Persi!» esclamò Tyson. «State bene?» «Sì!» risposi. «Siamo caduti in una fossa!» Gli altri mi guardarono scettici, poi si voltarono verso Annabeth. «Sul serio!» insistetti. «Avevamo tre scorpioni contro!» «Così siamo scappati e ci siamo nascosti fra le rocce!» «Ma siamo stati via solo un minuto!» «È quasi un'ora che siete dispersi!» rispose Chirone. «La partita è finita!» «Già!» bruttolò Grover. «Ne avremmo vinto se un ciclope non mi si fosse seduto sopra!» «È stato un incidente!» protestò Tyson e poi starnutì!» Clarisse indossava la corona dall'oro ma non si stava vantando neanche un po' per la vittoria il che non era da lei. «Una fossa?» chiese sospettosa. Annabeth fece un respiro profondo. Si guardò attorno. C'erano diversi altri ragazzi del campo. «Chirone!» «Forse dovremmo parlarne nella casa grande!» Clarisse rimase senza fiato. «Lo avete trovato, vero?» Annabeth si morse il labbro. «Dio...» «Sì, l'abbiamo trovato!» Qualcuno degli altri ragazzi cominciò a fare domande, confuso quanto me. «Ma Chirone zitti tutti alzando la mano!» «Questo non è il momento né il luogo adatto!» Scrutò i massi come se si fosse appena accorto di quanto fossero pericolosi. «Tornate tutti nelle capanne a riposare! È stata una bella partita!» «Ma il coprifuoco è già passato!» Ci furono un sacco di borbottie lamentele, però gli altri si allontanarono parlottando e lanciandomi occhiate sospettose. «Questo spiega un sacco di cose!» esclamò Clarisse. «Spiega cosa sta cercando il Dio!» «Aspetta un secondo!» replicai. «Che vuoi dire? Cosa abbiamo trovato?» Annabeth si voltò verso di me, gli occhi cupi per la preoccupazione. Un ingresso del labirinto, una via d'invasione che porta dritta nel cuore del campo. decimato decimato Grazie a tutti.